Ciao, io sono Angela e tu sei sul mio canale Tutto dal Web. Glamoroso colpo di scena, forse inatteso, questa sera nella casa del grande fratello VIP. Il triangolo amoroso composto da Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorgè sembra destinato a chiudersi e noi ce lo auguriamo. Sembra che infatti i tre protagonisti hanno fatto sapere di essere stanchi di queste tensioni accumulate negli ultimi giorni, soprattutto anche dopo l'ultimo litigio avvenuto sabato sera e pare che Alex e Delia abbiano deciso insieme di lasciare questa sera la puntata, la casa, scusatemi, del grande fratello. L'ultima notte, quella trascorsa di sabato sera, pare aver rotto il confine tra il gioco e la realtà. Soleil, infatti, l'abbiamo visto tutti, ha confessato finalmente il suo amore per Alex, il quale poi ha anche ricambiato. In tutto questo però c'è Delia che vuole continuare la relazione con suo marito e prova anche una certa affinità con Soleil, visto che si sono anche baciate. Dopo però il litigio avvenuto sempre sabato, tutte e tre si sono ritrovati a parlare in salotto e la decisione unanime sembrerebbe quella di abbandonare la casa del grande fratello quando sembra ragazzi il prima possibile, come ha dichiarato lo stesso Alex Belli. Dunque pare che questa sera Alex decida di lasciare il gioco insieme a sua moglie Delia la quale pare abbia chiesto che per amore di lasciarlo insieme a lui. Una decisione che se fosse confermata decreterebbe la fine di una colonna portante ma soprattutto di un reality, di una fiction tirata, secondo me, fin troppo a lungo. Scrivimi tu che cosa ne pensi. Lascia un mio like, iscriviti al mio canale e attiva la campanellina perché solo così ricordati non ti perderai questo ma nessun altro prossimo video. Scriviti al mio canale